Buongiorno, grazie per avermi invitato all'Icograda Design Week. Come scrittore di fantascienza sono molto interessato all'argomento della conferenza che tratta dei mondi paralleli e del multiverso, perché conosco veramente molto bene questi temi. Sono certo che per voi multiverso significhi una metafora, qualcosa di inverosimile. Nessuno di voi si aspetterebbe di incontrare qui qualcuno che sia proveniente da un mondo parallelo al suo. Invece eccomi qua. Sono nato in un mondo parallelo, mi chiamo Bruce Sterling, lo scrittore di fantascienza, o meglio, sono Bruce Sterling proveniente da un'altra parte del multiverso. Nel mio mondo Bruce Sterling non è americano e decisamente non è nato in Texas. Nel mio mondo Bruce Sterling è nato a Torino, uno scrittore di fantascienza torinese quindi. Quell'uomo sono io. Mi chiamo Bruno Argento, naturalmente perché sono la versione italiana di Bruce Sterling. So che fate fatica a credermi, ma non preoccupatevi. A noi scrittori di fantascienza capita spesso di non essere creduti. Come potete notare conosco tutto quello che Bruce Sterling conosce. sono qui al posto di Bruce Sterling, ma sono anche Bruno Argento e parlo coerentemente italiano. Io sono qui mentre lui se n'è andato. Questo tipo di viaggio è molto più semplice di quanto immaginiate. Non sapete come viaggiare nel multiverso. Avete solo una vaga idea di cosa significhi. Nella mia Torino le idee sono precise, concrete. Sappiamo come viaggiare, possiamo spostarci da un multiverso ad un altro con estrema facilità. Infatti non appena avrò finito di parlare e tornerò indietro. E a Torino non vi sarà più traccia di Bruno Argento. Al contrario noterete che Bruce Sterling sarà tornato a Torino. Spero che questo chiarirà i vostri drubbi. Quando sono arrivato per la prima volta nel vostro universo ho realizzato che io, Bruno Argento, ero un texano e la cosa non mi piaceva affatto. Questo texano ed io abbiamo carriere parallele. Ho superato i 50 anni proprio come lui. Scrivo racconti, di romanzi di fantascienza e tratto temi di tecnologia proprio come lui. Mi interesso anche di design, per cui sono in gran parte simile a quello americano che conoscete con il nome di Bruce Sterling. C'è una cosa però che ci differenzia. Il vostro Bruce Sterling è uno straniero che sa appena leggere l'italiano e non conosce Torino. Quando passeggia tra di voi, assomiglia ad un bambino meravigliato ed ingenuo, gli italiani lo compatirebbero o al massimo cercherebbero di aiutarlo. Al contrario, io sono lo scrittore di fantascienza futuristica più noto di Torino. Sono nato qui, ho fatto le scuole qui, mi sono sposato qui, i miei figli sono cresciuti qui. È sorprendentemente facile. Per prima cosa dovete dichiararvi da soli capitale mondiale del futurismo. E questa è la parte più difficile. Poi dovete creare e dotarvi di un piccolo istituto culturale in cui ospitare e nutrire dei futuristi. 50 futuristi saranno sufficienti. E se riuscite a far stare 50 futuristi in un solo edificio, allora sarete veramente la capitale mondiale del futurismo. Fortunatamente Torino è piena di piccoli istituti culturali. È stato quindi semplice creare per noi un altro istituto per una dozzina di futuristi impazienti che organizzano conferenze, fanno ricerche, scrivono dossier e hanno una editrice accademica. La cosa difficile è stata convincere il mondo che noi, Torino, eravamo la capitale del futuro. Abbiamo scelto di essere insensibili. Abbiamo sempre avuto la potenzialità di mobilitarci per porre fine al grido di dolore e abbiamo scelto di essere sordi. È il grido di un disagio nascente. È il grido di una civiltà incapace di creare e progettare una vita migliore. È un mondo che ha abbandonato se stesso a fluttuazioni casuali e che chiama tutto ciò saggezza. Un mondo che rifiuta di intervenire in modo costruttivo per salvarsi dai pericoli presenti e lampanti. Il mondo ha paura, il mondo ha la guerra, il mondo vede un importante declino dell'ambiente. È corrotto a istituzioni inadeguate, assenti e ora a causa della crisi finanziaria il mondo vive il primo panico finanziario veramente globale. E Torino rimane insensibile. Perché Torino ha difficoltà nell'immaginarsi come capitale mondiale. Non che Torino sia incapace di esserlo. Non siamo solamente diventati la città del futuro. Per prima cosa ci siamo immaginati come città del futuro. Poi abbiamo iniziato a cambiare. Il cambiamento era impercettibile. Ci vorrebbero capacità letterarie per descrivere un cambiamento nel carattere pubblico. Potrei raccontarvi una storia su questo, una storia personale. Dopotutto sono un romanziere. Un tempo la mia vita era piena di robaccia letteraria. Ad esempio vecchie copie della rivista di fantascienze di Italo Calvino, la principale pubblicazione futuristica di Torino. Naturalmente scrivo per la rivista così come fanno tutti i più famosi scrittori di fantascienze italiani. Valerio Evangelisti, Gloria Barberi, Massimo Del Pizzo. Il mondo intero conosce questi nomi. In poco tempo il mio piccolo appartamento torinese si è riempito di robaccia letteraria. Premi, targhe, edizioni straniere dei miei libri, adattamenti di Hollywood, souvenir copertine dei miei libri, eccetera. Stava diventando impossibile muoversi. Lentamente stavo per essere sopraffatto. Quindi mi sono fatto una domanda molto semplice. Bruno, mi sono detto, sei un cittadino della capitale mondiale del design, come puoi permetterti di essere travolto da questa robaccia? Ti comporti come se fossi una vittima incapace di difendersi dalle forze casuali del mercato, quasi come un americano. Quindi mi sono dato tre regole. Ho analizzato gli oggetti che ingombravano la mia vita, decidendo di fare qualcosa in proposito. Sono belli? Questa è stata la prima domanda. Ero così affezionato a loro che se uscivano dalla mia vita ne avrei notato l'assenza? Questa è stata la seconda domanda. E per ultima, hanno mai avuto una funzione utile nella mia casa? In altre parole, erano ben progettati e in buone condizioni. Mi sono obbligato a rispondermi con onestà. La maggior parte degli oggetti della mia vita hanno immediatamente fallito la prova. Erano brutti, non ne avevo cura, erano rotti ed ero troppo pigro per buttarli. Ho scritto un articolo su questo argomento per abitare. Non il vostro abitare, il mio abitare. La rivista molto nota, Berlino, Tokyo e Mosca. Questi oggetti inutili e sgraziati mi stavano danneggiando. Mi stavano allontanando dagli obiettivi. Mi stavano riducendo ad una brutta copia di Bruno Argento, ad un essere umano inferiore. Rappresentavano un livello sentimentale del caos. Mi consentivano di nascondermi all'interno della confusione, trasformandomi in un essere passivo. Questo materiale mi allontanava dalla libertà esistenziale. Ognuno di questi oggetti occupava il mio spazio come un invasore. Mi rubava del tempo prezioso. Ho scoperto che quando ero circondato da oggetti utili, pieni di significato e capaci di parlare al mio civilizzato senso estetico, mi sentivo veramente me stesso. Avevo più chiarezza, più obiettivi. Avevo più tempo per gli amici. Quando venivano a trovarmi dicevano Bruno stai proprio bene. Non avevano notato che avevo buttato la metà dei miei oggetti personali. Alcuni erano addirittura invidiosi. Vedevano che gli oggetti sopravvissuti erano belli e ben progettati, per cui probabilmente pensavano che avevo fatto i soldi. Non ero diventato ricco. Ero entrato nel futuro e avevo potuto farlo perché ero meno oppresso dalla spazzatura. Oggi mi sono dato altre regole. Prima di acquistare un nuovo oggetto devo prima sacrificarne un altro. Forse vi ricordate che ho scritto un romanzo su questo argomento. No, è vero. In questo mondo non ci sono romanzi di Bruno Argento. Avete solamente gli sfortunati romanzi cyberpunk di quello scrittore texano di fantascienza. Come Galileo, Colombo, Marco Polo e Calvino aspiriamo a costruire la mappa del mondo. Aspiriamo a costruire la mappa del multiverso, la mappa dei mondi paralleli. Puntiamo a visitare intellettualmente e a sviluppare tutti i mondi possibili. Grazie. 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 Grazie.